classe 87 di Sant'Angelo in Vado, un grande campione del Bike Trial, Alan Cappellacci e come atleta io chiamo Alex Guerra, anche lui da Sant'Angelo classe 1987, un grandissimo applauso per Alex Guerra signori ricordiamo che tutti i nostri atleti fanno il campionato italiano di Bike Trial e adesso l'atleta diciamo più giovane e anche quello più promettente Alessandro Allegretti, lo chiamiamo con un grandissimo applauso pensate, quattro volte campione italiano, quarto al mondiale e secondo al campionato europeo di Bike Trial Alessandro Allegretti giovanissimo, tanti lo conoscono, forse ci sarà anche qualche scompagno di classe questo ragazzo è del 94 quindi un grandissimo applauso ah ci siamo, va bene, va bene allora intanto che vedete Alex che stende il tappeto quando vedete il tappeto vuol dire che ci sarà un volontario, è vero Alex quindi cerchiamo un volontario dal pubblico uno che si offre un volontario, no io non mi offro ah allora uno, uno che, uno skater guarda quello skater lì che si è posato adesso ah vieni, vieni, stenditi pure lì stenditi, un applauso signore al nostro volontario allora ti devi stendere, guarda non ti succederà niente te fai tutto quello che ti dicono gli atleti e non ti succederà niente signori Alan vediamo Alan piano, piano piano Alan grandissima precisione del nostro Alan vai Alan, bravo, bravissimo, un applauso per Alan Ale 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 mi raccomando Ale sapete che è diventato marrone, calma ok, dai che ci siamo ci siamo bravissimo Ale, un grande applauso Ale, ecco cerca, no, non esagerare dopo Ale, bravissimo un grande salto lì dietro e ora è il turno di Alex Alex, baci piano eh sì, sì ti bacia la gomma sì bravissimo Ale allora Alex, Alex cosa vuoi fare? piano, piano mamma mia signori un grandissimo applauso a 10 centimetri neanche dal volto un'incredibile precisione sì Alex, sì signori questo è Alex Guerra bravissimo allora Ale cos'è che fai? Ale Ale oh maleducato cos'è che fai? ma allora signori i nostri i nostri atleti tentano sempre misure più spettacolari possibile per intrattenervi e questo sinceramente non l'ho mai visto Ale Ale piano piano Ale Ale il bicchiere no no Ale signori un applauso per Alessandro mamma mia millimetrico sì Ale Ale sto sudando bravo sudando più te di me signori un grandissimo applauso al nostro volontario al nostro skater allora direi di proseguire con un po' di strutture come potete vedere queste strutture le hanno costruite appositamente i ragazzi nel giro di oggi pomeriggio penso sono dei bancali rimediati qualche gomma e qualche non so se sono tutti per le pugnature e comunque i nostri atleti vi vedrà vi faranno vedere cosa sono capaci di fare su queste strutture intanto Alex è stata di là tranquillamente signori come potete vedere questo sport non è proprio la facilità in persona ci vuole una grande agilità una grande tecnica una grande maestria cioè signori questi sono atleti che si allenano almeno 3-4 ore al giorno quando quando possono tanto signori un grande applauso per Alessandro quando possono allenarsi vedete cosa ci combinano intanto Alan Cappellacci con questi allunghi vai Alan oppla bravissimo Alan e ora è un'altra volta al turno di Alex bravo Alex questo 360 gradi dimmi dimmi cosa Ale cos'è che stai facendo ah si 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 bravo allora signori vedete che Alessandro sta preparando una spicella e semplicemente è un salto con l'asta solamente che i nostri atleti dovranno saltarlo con la bici quindi allora quanto è alto 70 70 centimetri signori 70 centimetri e li salto a piedi vediamo loro con la bicicletta allora il turno di Alex Guerra signori Alex Guerra salta subito bravissimo Alex e ora Alessandro e anche Ale salta bravo vediamo Alan come c'è la cave e anche Alan salta ragazzi è troppo facile dai aumentiamo un pochino ok ok siamo a 80 80 80 centimetri 80 centimetri vediamo vediamo allora Alex facci vedere signori 80 centimetri e Alex salta bravissimo allora Ale mi raccomando bravissimo anche te mi sembra troppo facile Alan salta oh bravo allora io vi voglio vedere aumentate l'altro po' si dai che oggi siete in forma raga si allora quant'è 35 90 signori 90 centimetri quasi un metro è un salto con la bicicletta in alto per 90 centimetri non sono pochi vediamo Alex come se la cava Alex salta bravissimo signori 90 centimetri ora è il turno di Alan e anche Alan salta Ale non far figuracce e anche Alessandro saltato si ci siamo allora io direi di passare al prossimo allora signori signori i nostri attenti vogliono farle figuracce all'unattimo vi conosco tutti qua ma non vi vergognate allora Alan siete pronti voi quant'è signori un metro mi sa che non ce la fanno saltare comunque io vorrei un grandissimo aiuto dal pubblico per fare saltare un metro ai nostri atleti signori Alex guerra un metro ci siamo bravissimo Alex ora è il turno di Alan Alan un metro mi raccomando mi raccomando e anche Alan salta bravissimo Ale ti eh dai che ci siamo signori Alessandro Allegretti anche lui il metro bravissimo bravissimo ok allora no no io non ti faccio saltare di più dai continua allora guarda tutte queste persone negli occhi guarda guarda se non salti va in giro nudo io ti do tre tentativi tre tentativi a tutti o in giro giro per la festa della castagna nudi allora signori un metro e dieci mi pare un metro e dieci vero? ok allora è un momento di massima concentrazione per i nostri atleti signori incitiamo il nostro Alex a fare del suo meglio un metro e dieci e salta bravissimo mamma mia che gran salto vuole il turno di Alan tre tentativi anche Alan vediamo un po' vediamo un po' Alan signori non vi sento non vi sento vai Alan si bravissimo di un niente Ale ora è il tuo turno tre tentativi anche te mi raccomando signori Alessandro Elegretti salta il metro e dieci anche lui bravissimi un grandissimo applauso per i nostri campioni questo è il bike trial e non è finita qui signori si prosegue il nostro spettacolo con altre strutture altri trick che ci riservano i nostri atleti intanto vedete Alan in maglia gialla sulla sulla struttura Alan scendi che comincia a essere alto lì Alan 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 no scendi giù Alan signori guardate dov'è sanno almeno almeno due metri e mezzo Alan scendi scendi bravo bravo signori mamma mia mamma mia Ale perché perché te tenti sempre di imitare quello che non va fatto eh Ale Ale signori incitiamo a scendere Ale che non vorrei portarlo a casa morto cioè tipo abbiamo l'assicurazione tutte quelle robe lì però ok le strutture è sceso bravissimo mamma mia in niente ora è il turno di Alex Alex mi raccomando allora Alex bravo ci siamo scendi signori guardate come si destreggiano su questi ostacoli mamma mia che lungo Alex Guerra mamma mia Alex e ora è ancora il turno di Alan sì Alan ci siamo mamma mia Alan bravissimo anche lui un salto in allungo vediamo un laterale sì signori vedete che questa struttura è fatta con le bombe e Ale fa un 360 gradi in aria struttura molto instabile però il nostro campione ci riserva sempre sorprese Alex Alex anche Alex sulla struttura meno stabile anche Alex fa il 360 mamma mia Alex ragazzi oggi siete in forma sì sì allora vediamo vediamo ecco sì 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 mamma mia che passaggi da brividi mamma mia sì Alan Alan bravissimo Alan bravissimo Alan sì Alessandro vediamo un po' sta salendo ah un laterale così di un metro vediamo un po' l'allungo sulla struttura vai Ale sali su mi raccomando piano bravo Ale bravo no 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 Ale guarda che Ale guarda che alto lì cioè non ce la fai a saltare di là ci provi tanto muori te signori ci provo a saltare di là vediamo un po' signori Alessandro Allegretti un allungo da un metro e mezzo forse due io non vedo da qua Ale mi raccomando piano piano sì mamma mia che allungo il nostro campione per chi non c'era prima Alessandro Allegretti quattro volte campione italiano quarto al campionato mondiale e secondo al campionato europeo questo è il bike trial ora è il turno di Alex ecco un allungo per Alex veniamo sì 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 vai Alex sei sul punto più alto della struttura dove vai di sotto Alex mamma mia signori un salto in alto da almeno due metri forse anche più di due tre, quattro quant'erano? mille cavolo ah sì sì allora vedete Alan intanto ragazzi qui è una competizione continua purtroppo tutti vogliono fare quello che fa l'altro cercano sempre di migliorarci signori questo è passione sport e lui è Alan Capellacci bravissimo Alan allora Alex vedete che sta posizionando il tappeto magico quindi vuol dire che ci serve un volontario vero Alex un maschio un maschio allora signori un volontario maschio eeeh un maggiorenne però eh sì signori un volontario chi è che si offre? hai visto eeeh un uccia c'è ah a posto a posto ci siamo signori un grande applauso per il nostro volontario eeeh salutatelo perché questa è l'ultima volta che lo vedrete eeeh sì Ale 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 scusa perché te sei lassù sopra? lo mazziamo sì non so se poi sei proprio vabbè ah ah signori c'è un bicchiere lì allora no no aspetta aspetta facciamo il punto della situazione allora c'è un volontario lì sotto un bicchiere tra le sue grambe e Alessandro dice che lo schiacci lo schiacci signori schiaccia il bicchiere mettiamoci a ridere ale facci vedere come schiacci il bicchiere dai con la ruota un posteriore perché se no lo mazzi il porretto allora signori non sento non sento il pubblico sì 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 Vai Ale, mi raccomando Il nostro volontario è su da fre... Ale, ah no, non ce la fai, non ce la fai No, cosa? No, 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 no Signori, un grande applauso Ale, salta, dai Non ci farà attendere Signori, è una questione Delicatissima Ci siamo? Oh, sì! Sì, ha rotto il bicchiere Mamma mia, che precisione Mamma mia, che precisione Sì, sì Va bene Allora, Ale Sei stato molto bravo, sei stato Il nostro volontario ha perso due anni di vita Però, va bene, fa parte dello spettacolo Allora Due volontari Signori Allora, vorrei il gruppo di skater Qui Ci va un attimo di preparazione Perché basta un minimo errore nel salto E qualcuno ci fa male Alex Guerra Alex Sì, Alex, sì Bravissimo Allora Ale Bravo, Ale Ragazzi, state migliorando Sì Allora, un altro Un altro Sì, un altro Un altro skater Un applauso, signori Ai nostri volontari Allora, mi raccomando Tenete le gambe unite E nessuno ci farà male Alex, mi raccomando, eh No, no Non fare quella faccia Signori, Alex Guerra Salta a quattro persone Bravissimo Mamma mia Ora il turno di Alessandro E anche Alessandro Salta a quattro persone Bravo, Ale Un altro Signori, un altro Sì, un grande applauso Al nostro prossimo volontario Allora, più si accumulano I volontari Alla mia sinistra E più il salto si fa lungo Chiaramente Però L'ultimo che arriva Diciamo È quello che È il più malcapitato Quindi Ah, no Allora Ale Ale, guardami Alessandro Allora, guardami un attimo Ci sono cinque persone lì Ok Le mazze Allora, fa una cosa Te lo dico io Se riesci a togliere la scarpa A lui Ti giuro, ti do quello che vuoi Con la ruota dietro, eh Allora, signori Cinque persone Si prepara Alex Guerra Nel salto In lungo Vai Alex Concentrazione Sì Cinque persone Bravissimo E ora Alessandro Salta E anche Alessanta Allora Allora Io ho visto Di poco Quindi Cinque persone Oh, oh, oh M'hai educato Allora Basta Basta È difficile Anche io me lo chiedo come fa Non lo so È la testa che manca Un altro No L'ultimo Allora Chi vuol morire Ok Ci siamo Stenditi lì Mi raccomando Se c'è la Playstation 4 Me la lasci No Ok Niente Ci ho provato Allora Signori Sei persone Sei persone Sì Eh Alex Io basso la musica Questo è un momentaggio Signore Signori Signori Allora Facciamo che mi seguite A me E prepariamo il nostro Alex Quando salta Facciamo così Bravissimo Bravissimo Alex Mamma mia Mamma mia Sei persone Mi sa che l'hai preso Ora sei stato bravissimo Vai Ale Vai Ale Oh Sei Bravo Ale Sì Ciao Dai Lascia perdere Come un altro Lo speaker Ragazzi chiede allo speaker qui Dai No Allora Vabbè Facciamo Lascia un attimo la musica Così Oh Mi raccomando Fatemi un applaio Ehi Vabbè 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 Grazie a tutti. Niente meno che sei persone più lo speaker, bravissimi. Lo speaker vale per due. Intanto vedete Alessandro che nonostante, perché tu vuoi far male? Ti passano le bici e c'è anche i problemi durante lo spettacolo? Signori, ringraziamo tutti i nostri sponsor, Mickey Way Bikes, la Proloco di Milano e tutti quelli che hanno organizzato la Sagra della Castagna. Sono i momenti che un attimo... Vabbè, Alessandro sta mettendo a posto la bici, quindi io approfitto per i ringraziamenti. A posto, a posto. Ale, scendi. Signori, facciamo scendere Alessandro. Tieni la ruota! Cos'è? Ale, avevi problemi, mi hai detto? Signori, senza una ruota! Senza una ruota! Mamma mia, Alessandro Allegretti! Senza una ruota! Questo, signori, è monociclo trial! Vai, Ale! Non è possibile! Non è possibile! Ale, Ale! Vabbè, dopo ci diverte, lui! Cosa ci vuoi fare? Ale, mi raccomando! Ale, sei senza una ruota, per favore! C'è la Cristina nel pubblico! Un applauso! Ale, perché questi numeri? Ci sono anche i tuoi segnitori qua, non è il passerone! Allora, i nostri atleti mi chiedono questo. Signori, Alex Guerra! Grandissimo applauso per Alex Guerra! Signori, questo è il bike trial! Loro sono Alex Guerra, Alar Capellaci e Alessandro Allegretti! Il nostro spettacolo finisce qua! Io vi saluto e facciamoci un grandissimo applauso per voi! Grazie a tutti! Grazie a tutta la festa della Castagna! Grazie a tutto il prologo di Lunano e a tutti i ragazzi che sono stati disponibili qua a organizzare! Vi ringrazio inoltre anche gli skater che ci hanno dato una mano nello spettacolo! Ci vediamo al prossimo evento! Grazie a tutti! Signori, non andate via! Fra dieci minuti ci sarà la demo dello skater! Di tutti i nostri skater! Di tutti i nostri trick! E le nostre acrobazie più belle dei nostri skater! Grazie a tutti! Musica Musica Musica